La mia priorità è i soldi. D'accordissimo. E' che dice anche se è comunque... se è comunque... No, è che magari... Ma secondo me proprio il 90% della gente pensa ai soldi... No, sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti molto spesso c'è anche se dire che a questo mio non ti fa cagare... Sì, immagino. Ah no, vabbè, è sempre invagliato. A meno che una... se non è che ti vuoi arrivare più da lo costo o di queste c'è un bel costo. In Maria c'erano le differenze come quelle grosse, tutte le danze, queste cose qui. No, ho visto queste belle belle e le danze. E... Adesso tutte le business sono pure magnifiche, no? Ci sono delle belle belle e le domande i miei e le loro vanno in Italia, la cattare è una stessa. Da. Chino. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.